Quella sporca ultima rete Buongiorno e benvenuti Allora buona giornata, buon pomeriggio, buon tutto Ti ricordi quando lo sbattevo sempre e c'era l'ascoltatore che diceva basta battere sul tavolo Perché si sente là? Mi è sembrato di sentire un rumore, rumore Ciao Matteo come stai? Buon pomeriggio, bene e tu? E' abbastanza bene grazie Matteo, tutto bene anche tu? Il carnevale invece com'è andato? Ma che cosa ti sei travestito? No io non ti travesti Ho già vinto i miei premi Sì E' vero? Io ho vinto un premio una volta Mi ha premiato Pippo Baudo Pippo Baudo Avevo nove anni e Pippo Baudo già Era già vecchio Quando io avevo nove anni Nove anni avevo avuto, otto nove anni Mi ha premiato, mi ricordo di una festa in corso Buenos Aires E da cosa eri vestito? Buon banale No dai Tito Sì sì no era una roba banalissima Non mi vergogni dai Tito No vedi La duchessa La duchessa A grande avvenire questo ragazzo A grande avvenire questo ragazzo Ciao chi parla? Francesca Francesca Attenzione Tifosa è nero azzurra Sì Che va a vedere l'Inter anche quando l'Inter non gioca Ho scoperto che ero registrata nel vostro database come Fran Milan Questa cosa mi ha rovinato Colori diversi Stessa passione How do you do? Si chiama How do you do? Perché continuiamo a dire How do you do? E ci sono delle canzoni che dicono How do you do? How do you do? Yes Hollywood I do 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 Siete benestanti? Vabbè A parte invece alla borghesia media Buonasera Sono Silvio Berlusconi Sono Silvio Berlusconi Basta una parola e io me ne vado Basta una parola e io me ne vado Come ogni farmaco presenti effetti collaterali Tra i quali un calo dell'appetito La letargia Vomito, diarrea Basta Sei sposato? Fumi? Non fumo e non sono sposato Però è un cane Però è un cane Non più No Che tristello Ci è andato tutto male Ci è andato Bravi, bravi, bravi Ciao io non vi stavo seguendo però Benissimo Non ci stai seguendo Perfetto Allora questa è Radio 24 Stiamo parlando di affari e finanza E vogliamo sapere cosa ne pensi dell'aspetto contingentale Che comunque riguarda la finanza e la borsa Nell'attimo nel momento in cui La borsa neodorandese ha aperto i mercati quest'anno Dica, dica, dica Bene, benvenuto alla redazione di Radio Maria Sono qui Radio Maria Aiutaci Dicci che dobbiamo fare Però non credi Però non, però non Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti